Questa è un'impresa che si occupa di recupero di metalli? Sì. Quindi quelli sono rimasti qua per essere recuperati, giusto? Se no cosa rimangono a fare dei metalli là? Sì, aveva 40 kg di roba. Perfetto, dove è la certificazione, il formulario, l'iscrizione al registro ambientale? Siccome è per poter scaricare i rifiuti. Per riprendere o... Sì, quello è solo pubblico. Siccome per poter rilasciare dei rifiuti bisogna sapere da dove provengono. Mi può far vedere la certificazione che dimostri da dove vengono quei rifiuti? Non è un problema, se lei è a posto con la coscienza mi può far vedere la certificazione dove si capisce da dove vengono quei rifiuti. Perché questo si chiama traffico illecito di rifiuti, se lei lascia scarichi unque. Salve. Abbiamo un furgone, ha scaricato 30 kg, ce l'ha lasciato di là e se ne è andato. Invece se buttarlo per strada l'ha lasciato qua. Come? In che senso lasciarlo per strada? No, mi voglio capire. Ma voleva buttare qui per strada, mi ha detto, butto qua, lo butto là. Ah, cioè al posto di lasciarlo per strada l'ha lasciato qua voi. Però voi vi occupate, voi ci guadagnate su questo, è un caso che ha lasciato a voi i metalli. E' la strada delle gambe, la spiegate. Spiegate la strada delle gambe. Leva tutto, non mi puoi riprendere in faccia, no, non hai capito. Non hai capito, no, non ho capito proprio. Se mi vieni tu o mi viene lui e mi dice devo buttare 30 kg di roba perché non la posso tenere a casa o perché non ci stanno i secchioni adatti e sta qui vicino perché lavorano qui e portano la roba qui e me la scarica qua, è il mio mestiere. Il suo mestiere è tracciare il rifiuto. Da che il tigione facciamo dalla mattina alla sera, capito? Dalla mattina alla sera. Lei deve tracciare il rifiuto. Guarda, mi stai trattenendo contro la mia volontà. Mi stai trattenendo, sì, chiama le guardie. Tieni acceso, mi stai trattenendo contro la mia volontà. Sì, sì. Guarda, non... Non mi continua a riprendere, per favore. Mi fai andare via? Mi fai andare via? È inutile che riprendi. Mi fai andare via? Mi fai andare via? Non riprendere. Mi devi fare andare via? Guarda che mi stai trattenendo contro la mia volontà. Mi stai trattenendo contro la mia volontà. Sì, ma le guardie, ok. Ma la casa parte. Ma il tigione, la tua strada è chiusa, prego. Questo signore, dopo che abbiamo scoperto che commetteva degli illeciti, ci sta trattenendo contro la nostra volontà in questa via. Sta bloccando la strada e ci impedisce di passare. Basta! Piano! Scendi, scendi. Scendi che ti smuono. Scendi. 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 Ci lasci? Lasci! Scendi. Mi fai in ferro. Pieno in ferro, così lo spasco. scendi che ti spappolo. Io sto facendo il mio lavoro. Scendi che ti spappolo. Guarda, scendi che ti spappolo. Guarda, scendi che ti spappolo. Calmo, calmo, calmo. Si dice male. Scendi. Si dice male, non scendi a nessuna parte. Con me puoi parlare, con lui non puoi parlare. Va bene, però calma. Così lo scendi. Con me puoi parlare. Capito? Ma così per me non ti spappolo. Scendi. Con me puoi parlare. Scendi. Con lui non puoi parlare. Quindi dammi solo la... Non si può fare così. Non si può. Scendi, scendi. Calma. Aiuto, aiuto. Oh. Aiuto. Ma che cazzo vuoi da me? Dammi quella telecamera. Scendi. Chiama, chiama per favore. Chiama. 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 Basta, ti prego, basta. Basta, basta, ti prego, basta. Chiama.